separazione quando si sceglie di separarsi è inutile provare a cambiare per l'ultima volta il partner non ha senso provare a cambiare durante il processo di separazione o all'interno della dinamica della separazione ruoli modalità organizzative decisionali processi appunto ad esempio di tipo organizzativo pratico nulla deve essere cambiato o meglio non si deve scegliere di utilizzare la separazione come pretesto per dare un'ultima lezione o un ultimo tentativo al partner provo a spiegarmi meglio facendo magari anche un esempio nel momento in cui una coppia decide di separarsi e non sto parlando di coppie in cui uno decide di separarsi e l'altro è ancora follemente innamorato e non ne capisce il perché ma di coppie che sono arrivate sostanzialmente alla fine della loro relazione magari chi con maggiore determinazione propende per la separazione chi meno però sicuramente ne è possibilista comunque entrambi appunto stanno abbagliando questa possibilità e hanno scelto di di compiere il passo appunto di separarsi ciò che avviene soprattutto nel momento in cui c'è un conflitto o nel momento in cui le motivazioni che portano la coppia a separarsi sono radicate appunto all'interno della loro storia della loro dinamica che uno dei due partner decida o propenda per utilizzare la separazione del momento della separazione tutto il processo che ha a che fare con la separazione come ultimo momento ultima possibilità di cambiare per l'ennesima volta il partner e far valere a un ulteriore volta le proprie idee cioè ripetere in un qualche modo la dinamica non mollare l'osso continuare a combattere su ciò che non andava ovviamente se una coppia arriva a separarsi è perché reciprocamente non si è felice perché non si è contenti perché ci sono delle cose dell'altro che danno fastidio prova a fare un esempio a riguardo sa dottore io nella coppia sono quello che ha sempre deciso tutto sono quello che ha dovuto decidere quando dovevamo sposarci che ha deciso che macchina dovevamo comprare dove andavamo in vacanza che scuola dovevano fare i figli nomi dei figli ho deciso tutto nella mia relazione e questa cosa non mi è mai stata bene meglio sono sicuramente una persona a cui piace scegliere a cui piace decidere ma mia moglie la mia compagna invece è sempre stata ossequiosa ha sempre detto sì questa cosa all'inizio mi andava bene poi mi sono reso conto che invece era un grande limite e ho provato in tutti i modi a cambiare ho provato anche a spronarlo ho provato a fare questo quell'altro a suscitare in lei un qualche tipo di reazione questa cosa non è mai arrivata io sono stufo questo è anche uno dei motivi per cui mi separo di contro ovviamente sentendo la versione della moglie la storia è completamente diversa su questo non ci piove però poi il nostro personaggio nell'esempio che cosa che cosa fa dice benissimo adesso abbiamo litigato in maniera furiosa ci siamo detti che appunto ci separiamo però però questa volta deve decidere lei questa volta mi aspetto che sia lei a dire adesso ci separiamo e a compiere il passo non solamente a dirlo e poi aspettare che io vado ad organizzare tutto e quindi mi mette in mano a avvocati mediatori familiari no deve essere lei io non sono più disposto a fare nulla questa è una dinamica disfunzionale questa è una dinamica in cui la separazione viene utilizzata per provare un'ultima volta a cambiare ancora appunto ciò che secondo noi non funziona nel partner ovviamente gli esempi possono essere più disparati io ho preso questo semplicemente perché penso possa essere rappresentativo ma se prendiamo qualunque argomento che del partner non ci piace che poi è diventato uno dei nodi gordiani della nostra relazione è facile capire come durante la dinamica di separazione possa essere riutilizzato o si possa tentare per l'ennesima volta l'ultima di cambiare appunto il coniuge e quindi che cosa succede succede che questo è sbagliato perché comunica qualcosa di sbagliato se davvero si è deciso di separarsi non serve provare a cambiare ancora una volta al partner se si è deciso davvero di separarsi e quindi l'obiettivo diventa quello ci si deve muovere verso quella direzione e quindi diventa appunto logico andare a riproporre la dinamica che in un qualche modo caratterizza l'organizzazione l'equilibrio familiare anche se questa non rende piacevole però se quella è la meta se l'obiettivo appunto è separarsi inutile provare a cambiarla e di contro comunica anche un messaggio sbagliato al partner che trova un cambiamento in questa modalità di comportamento quindi ad esempio un partito interventista e decisionista che poi non lo è più o meglio non è su questo tema e quindi confonde le acque quindi magari appunto chi viene accusato di lassismo dice ma davvero lo vuole perché lo minaccia e poi aspetta che sia io ad intervenire quando è tutta la vita che in realtà decide lui e si muove secondo quelle che sono le sue volontà e questo non fa altro che incistare il problema protrarlo generare ulteriore conflitto generare ulteriore rabbia sino ad arrivare all'esplosione al conflittualità eccetera 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 e impedisce una volta che poi effettivamente la separazione viene ottenuta viene raggiunta di archiviarla perché quella nuovamente diventa ancora un argomento di discussione addirittura la separazione è andata nuovamente secondo le nostre solite dinamiche perché tu neanche lì hai deciso di cambiare tu neanche lì ti sei impegnato o ti sei impegnata a cambiare bene se si sceglie di separarsi ci si deve separare non si deve utilizzare la separazione come ulteriore ultimo tentativo di provare a cambiare il partner altrimenti ci dobbiamo dire una cosa diversa se vogliamo fare questo uso della separazione è perché non vogliamo farlo se vogliamo usare questo uso della separazione la separazione è un tentativo un gesto di rabbia che è autodistruttivo in realtà io non mi voglio separare se poi appunto lo utilizzo strategicamente ci fermiamo ragioniamo capiamo perché stiamo compiendo questo passo e troviamo una modalità diversa magari una modalità diversa che diventa una strategia o uno strumento un tentativo ulteriore di stare insieme la separazione nel momento in cui viene decisa deve essere portata avanti secondo le dinamiche che la coppia già utilizza che già appunto la caratterizza